La giunta di Battipaglia rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei casoni d'oria. A San Cirlo una delibera approvata nei giorni scorsi, con la quale l'esecutivo ha comunicato alla soprintendenza la decisione, alla cui base vi sono problematiche di tipo economico non solo legate all'acquisto ma anche agli investimenti da effettuare successivamente e necessari alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità. Contestualmente il Comune ha chiesto di inserire in una futura vendita ad un privato la clausola ad ottemperare a quanto disposto dall'ordinanza sindacale del 16 ottobre per la messa in sicurezza.